Potrebbe essere una svolta, uno scossone psicologico in grado di imporre una sterzata alle indagini sul caso di Sara Scazzi. In cambio della verità, la mamma della povera ragazza di Avetrana, Concetta Serrano Spagnolo, è disposta infatti a perdonare la sorella Cosima, mamma di Sabrina Misseri e moglie di Michele, entrambi in carcere per il delitto della quindicenne. Concetta parla di misericordia per chi confessa le sue trasgressioni, rifacendosi ad un precetto dei testimoni di Geova. Un'idea elementare ma potente, con forti implicazioni morali in grado di indurre Cosima a riflettere e forse a liberarsi da un eventuale terribile peso. Cosima e le sue figlie, Sabrina e Valentina, aggiunge Concetta, stanno facendo a Michele quello che hanno fatto a me. Questa è la verità. Lo stanno condizionando, dice, in un abbraccio mortale, non lo fanno respirare, lo vogliono annullare, come fecero con me quando fingevano di sostenermi. Fanno pressione su di lui per fargli dire che Sabrina è innocente e dice riferendosi alle lettere con le quali Michele Misseri afferma di voler scagionare Sabrina. E sono brave. Penso, spiega, a quello che successe a me. Mi avevano talmente plagiato che ero arrivata a sospettare di mio marito. Tra me e mia sorella, conclude Concetta, c'è un'enorme differenza. Per lei una figlia è da difendere qualunque cosa faccia. Per me, se una figlia commette un errore, è da mettere davanti alle sue responsabilità.